Intanto ringrazio Closet che nell'ambito del Security Summit ci ha assegnato questo importante premio. Per la nostra azienda è veramente un tema importante su cui negli ultimi anni, in particolare negli ultimi due semestri abbiamo lavorato molto. La sicurezza in generale, la sicurezza del mondo informatico è alla nostra attenzione, in particolare per il settore che presidiamo e per l'attività che svolgiamo. La volontà di andarla a interiorizzare all'interno delle attività di tutti i nostri colleghi ha portato a promuovere una campagna importante per noi, fatta in modo anche innovativo, che ogni settimana ha portato a più di 5.000 dipendenti una informazione anche carina e simpatica su come è corretto gestire il proprio ufficio, su come è corretto gestire la propria scrivania e più in generale tutti i flussi di informazione che ci arrivano con tutti gli strumenti che ormai sono a disposizione in ambito lavorativo. La campagna Connessi e Consapevoli è stata un elemento fondamentale nel permettere di arrivare ai più di 5.300 dipendenti del nostro gruppo con delle informazioni puntuali, precise, anche un po' accattivanti, che permettesse loro di interiorizzare via via la grande responsabilità che ciascuno di noi ha nel gestire correttamente le informazioni che day by day abbiamo a disposizione nel nostro ambiente di lavoro. Ringraziamo Closite per il premio, per noi e per il team in particolare che ci ha lavorato e ha ideato questo tipo di progettualità, è un riconoscimento che ci rende orgogliosi come ho detto e ci dà ulteriore stimolo a continuare in questo tipo di iniziative e quindi in chiusura di questa importante manifestazione tenuta a Milano, penso che anche quella che si svolgerà a ottobre nel Triveneto ci vedrà presenti per portare ancora una volta le nostre testimonianze e dare ancora fiducia a questa importante modalità di aumento della sensibilità sul mondo informatico e della sicurezza in generale.